Dice come si chiama. Buonasera, sono Massimo Guerri, il maestro della filarmonica a Rio Gigli di Monte San Savino. In questo periodo siamo qua nell'isola di Dischia perché abbiamo fatto un gemellaggio con la filarmonica isolana e siamo venuti qua in questo splendido palco, in questa splendida piazza e abbiamo fatto la nostra esibizione. Cosa devo dire? Vi ringraziamo tanto perché per noi è stata una bellissima accoglienza e vi ringraziamo per tutto quello che ci avete dato e per i vostri applausi calorosi. Grazie a tutti.